Grazie ragazzi, se avete dai 18 ai 35 anni potete diventare donatori. Essere donatori vuol dire esercitare il ruolo più nobile che noi possiamo avere nella nostra esistenza, ovvero essere vita per altre vite. Ed oggi vogliamo raccontare come farlo, vogliamo dire quali sono i luoghi dove recarsi per poterlo fare insieme al Sistema Sanitario Nazionale. Nel centro trasfusionale della nostra città una grande iniziativa che nasce sicuramente da pagine di attualità. Tante famiglie del nostro territorio alle prese con storie difficili in salita e allora donare, donare, donare per far sì che in questa salita si possa trovare quella vita che dà vita ad altre vite.